Dunque, la mia prima domanda è come è stata l'esperienza a Chicago, a Occupy Chicago, di questo omaggio. È incredibile, mancano veramente le parole per dirlo. È stata un'esperienza assolutamente arricchente da molti punti di vista e ho imparato tantissime cose su tantissime cose, a partire dal movimento Occupy, dalla rete, da come la rete può essere usata per raccontare le cose. Insomma, è stata un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo e che non è ancora conclusa, perché insomma io lavoro su quello che ho fatto là, lo sto ancora finendo, quindi c'è ancora tanto da venire. Qualche mese fa abbiamo parlato e questo progetto era ancora, diciamo, un embrione. Dopo il tuo ritorno tu avevi detto che in effetti non tutto è andato come avevi previsto, quindi ti volevo chiedere quali sono le cose che sono andate come da piano e quali no. Sì, intanto per esempio il progetto si è chiamato Occupy Chicago, io in realtà su un mese che sono stata lì a Chicago ho passato tre giorni, i tre giorni intorno al vertice Nato e alle proteste contro la Nato. Il resto del tempo l'ho passato a New York dove il movimento Occupy Wall Street è nato e quindi sulle tracce del movimento per cercare di capirlo più a fondo. Già questa è una cosa che è cambiata molto, nel senso che quando Obama ha cambiato la sede del G8 spostandola a Camp David e quindi facendo sì che anche Occupy rivedesse i suoi piani e non prevedesse più un mese di mobilitazione a Chicago, ma un mese di mobilitazione più sparse in giro per gli Stati Uniti, io ho fatto le mie valutazioni e ho deciso che fosse più interessante essere a New York dove in effetti sono successe più cose nel periodo in cui sono stata lì. Questa è una cosa, la seconda cosa per esempio è il fatto che il sistema di pubblicazione automatico sul sito che avevamo previsto non funzionava come avremmo voluto e quindi mi costringeva a fare un secondo passaggio quando avevo a disposizione un wifi e la possibilità di tirare fuori il computer e collegarmi tranquillamente al sito, quindi la messa a disposizione dei materiali che io raccoglievo mano a mano era rallentata rispetto a quello che avrei voluto. Però insomma sono piccole cose che devono mettere a punto, è stato un primo esperimento e quindi come dire ci sta che non funzionasse come… e poi quando un conto è progettare esperienze di questo tipo dalla scrivania di casa attraverso il computer immaginando quello che sarà un luogo in cui non si è mai stati, che non si conosce, è una realtà che non si conosce, è un conto esserci insomma e quindi trovarsi anche con le piccole difficoltà quotidiane da dover risolvere al volo, ovviamente. Chiaro, ci sono state peraltro moltissime reazioni sia positive che negative a questo progetto, quindi ti volevo chiedere quali sono state quelle che ti hanno colpito di più, sia in positivo che in negativo. Ma dunque diciamo che ci sono state critiche e apprezzamenti in larga misura motivati insomma, però anche tanti a prioristici insomma, cioè gente entusiasta a priori o critica senza veramente spiegare le ragioni della critica al progetto. Diciamo che io sapevo benissimo di fare un esperimento, sapevo benissimo di fare un esperimento non facile, non facile da fare e non facile da spiegare e per cui il fatto che non tutti capissero e apprezzassero per me è stato assolutamente normale insomma. Non pretendo che tutti mi sostengano e capisco anche che ci sia chi fatica a capire quale sia il valore aggiunto di un progetto di questo tipo, che sta appunto nel, in qualche maniera svelare tutto il lavoro di costruzione del racconto, perché io non mi limito a fornire il racconto fatto e finito che è il lavoro che sto facendo adesso una volta tornata, ma in progress ho messo a disposizione di tutti gli elementi che io userò per costruire questo racconto ed è secondo me l'essenza del racconto digitale questo, però mi rendo conto appunto che sia un passaggio forse non proprio semplicissimo. Chiaro, quindi potresti darci qualche anticipazione su quello che è il risultato finale a cui stai lavorando adesso? Io per adesso sto riordinando tutto il materiale che è tantissimo, quindi foto, video, testi e anche tutto il materiale cartaceo, ho raccolto tantissima carta quando ero lì, i volantini, tutte le copie dell'Occupied Wall Street Journal e altre riviste che loro producono e fanno circolare e sto cercando di individuare i filoni che meglio dovrebbero raccontare e rappresentare l'Occupied Wall Street, insomma. Ti volevo chiedere un'altra cosa, quindi una volta conclusa questa esperienza, avevi detto che comunque era un progetto, un tentativo, un esperimento, hai intenzione di farne altri come questo? Non lo so, al momento sono molto stanca, lo so. Di certo ho intenzione di continuare a seguire il movimento Occupy perché ora più di prima sono convinta che sia un movimento importante che vale la pena tenere d'occhio, per cui quando avrò finito il lavoro sul materiale racconto in questo mese ho intenzione di probabilmente creare un sito ad hoc in italiano, perché in realtà siti loro ne hanno tantissimi, ma ne vorrei fare uno in italiano che servisse a raccontare sia la quotidianità del movimento, cioè loro ogni giorno hanno iniziative, azioni, manifestazioni e in qualche modo quindi raccontare sia appunto la quotidianità, quindi le singole cose che fanno giorno per giorno e anche le riflessioni, quindi a che punto sono arrivati e dove vogliono andare, insomma. Quindi per cercare di aiutare gli italiani a capire che cos'è questo movimento. Tu prima di partire hai detto che volevi andare a vedere più da vicino, toccare con mano che cos'era il movimento Occupy Wall Street. Sei arrivata a capirlo? Ecco, io dopo un mese lì sono partita con la sensazione di cominciare a intuire che cos'è Occupy Wall Street. Una cosa che sospettavo, perché insomma l'avevo seguito abbastanza da casa, da avere più meno idea, è che è un movimento che va interrogato ponendosi domande diverse dalle domande solite con cui si affronta un movimento politico, per cui occorre porsi le giuste domande, ma soprattutto forse in alcuni casi smettere di farsi domande. Quindi le classiche domande chi sono, cosa vogliono, come lo vogliono ottenere, in quanto tempo non servono. Sono domande a cui si può forse anche al limite trovare una risposta, ma è una risposta forzata ed è una risposta che rispecchia un nostro preconcetto e non interroga veramente quello che è questo movimento. È un movimento complesso, io quello che ho fatto è stato un lavoro, non so quando ne parlo, forse più antropologico che giornalistico, nel senso che il mio approccio è stato quello di avvicinarmi a entrare. Ho partecipato alle loro riunioni, mi invitavano alle loro riunioni quando si incontravano, facevano cose per cui… e io osservavo, è chiaro che non partecipavo per partecipare, quindi non prendevo parte alle discussioni, non dicevo la mia, stavo però nella riunione e osservavo le dinamiche, il modo di rapportarsi l'uno agli altri, di dialogare, i termini usati, ci sono alcuni termini che ricorrono continuamente nel loro modo di discutere. Tipo? Per esempio? Per esempio solidarietà è un termine che ricorre tantissimo e poi loro sono molto attenti al processo, quindi ogni loro decisione avviene attraverso un processo e quindi anche questo qui è un termine che durante le riunioni ricorre tantissimo. Allora osservandolo in questo modo credo di aver avuto la fortuna in qualche modo, la possibilità di vedere aspetti che probabilmente se ci fosse andata come giornalista del tipo classico, per cui vado lì, partecipo a un paio di eventi e individuo qualche persona durante gli eventi a cui fare qualche domanda, individuo i personaggi più carismatici da incontrare e a cui fare delle interviste, che per carità sono cose che ho fatto, perché in effetti ho incontrato 4-5 persone che sono un po' più coinvolte nel movimento e con loro ho avuto delle conversazioni più lunghe, che ho registrato, i cui file audio sono online, eccetera. Però non mi sono limitata a quello, insomma. Sarebbe stato veramente limitante. Io ho visto cose partecipando dall'interno che sfido, non credo che nessun giornalista avrebbe mai visto. Ultimissima domanda. Alla luce di quello che hai visto e sperimentato in questo mese negli Stati Uniti, come pensi che tutta la situazione che si è venuta a creare e soprattutto il movimento Occupy Wall Street influenzeranno le prossime elezioni? Se influenzeranno le elezioni non lo so, perché comunque le elezioni in America si svolgono su un livello completamente sganciato dalla realtà quasi. Però indubbiamente stanno influenzando il dibattito pubblico e loro portano avanti un discorso dei temi che sono quelli che toccano davvero il 99% della popolazione americana e non solo. Il più è che riescano a rompere un po' questa barriera fatta dai media mainstream che dopo aver dato loro una grande attenzione sono completamente scomparsi e riescano veramente ad arrivare alle persone, farsi ascoltare, che è una cosa che comunque fanno abbastanza bene. Sia attraverso le manifestazioni che fanno, che attraverso tutto il sistema di comunicazione che hanno messo in piedi, con siti internet, sostanzialmente tv, radio. Probabilmente difficilmente avranno un'influenza diretta. Quello che è certo hanno già avuto un'influenza perché molti dei temi che loro pongono, delle parole chiave che loro usano, sono diventate temi e parole della politica istituzionale. Quindi magari per cooptarle, insomma, più che per veramente adottarle. Però intanto un'influenza c'è. Perfetto. Claudia, io ti ringrazio veramente tantissimo per il tuo tempo. Grazie a voi e a presto. Grazie a voi.